Per il caso Open Arms, l'ex ministro dell'interno, Matteo Salvini, è stato rinviato a processo per un fatto analogo al caso Gregoretti. In quest'ultimo caso, invece, il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato il non luogo a procedere. Perché? Il fatto non sussiste. Dunque, due accadimenti dello stesso tipo sono stati valutati in maniera difforme da due procure e da due giudici. Si sa che chi deve valutare fatti, circostanze, prove e indizi, agisce in base a scienza e coscienza, per cui le ordinanze e le sentenze possono essere di tipo diverso per fatti analoghi. Caso diametralmente opposto è quando un cittadino già processato per un determinato fatto, condannato o colpevole, non può essere processato di nuovo da un altro tribunale, articolo 649 del codice di procedura penale. Nonostante ciò, qualche giudice si dimentica di questa precisa prescrizione e processa lo stesso imputato per lo stesso fatto. Magari arrivando a una condanna. Quando nel primo caso l'imputato era stato assolto. Con sentenza definitiva perché non sottoposta ad appello. Nel caso della Gregoretti, chi ne avesse interesse potrebbe proporre ricorso per cassazione. Staremo a vedere se ciò avverrà. Non crediamo però che la procura proceda in questo senso perché aveva chiesto l'archiviazione. Sembra del tutto probabile che l'avvocata di Salvini ed anche senatrice della Lega, Giulia Buongiorno, porterà l'ordinanza di Catania nel processo di Palermo. Il quale, verosimilmente, durerà almeno un paio di anni. Cosicché gli avversari, o nemici, di Salvini avranno la possibilità di utilizzare l'argomento sia nella campagna elettorale delle amministrative del prossimo autunno. Che in quella delle politiche nella primavera del 2023.